buongiorno buongiorno coccodrilli ho 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 è sabito direttamente dalla cristoteca tutti svegli incredibile il var che controlla ma andiamo a vedere nonno faustino e nonna maria guardate che belli oh no io che dici l'outfit va bene o no? si si basta che ti fermi l'outfit va bene? si si che è l'outfit? boh che ne so che è l'outfit che è l'outfit no no oh 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 è sabito eh basta che ho ma la fa male sei contento? si guarda l'outfit come va l'outfit sono contento guarda l'outfit oh l'outfit ma quel cazzo lo dici? l'outfit va bene? se ne devi andare no se ne devi andare no rimani qua ma non te ne andare ok? rimane a sedere perché se dopo vai mi tocca a vinta prendere per dietro di qui capito? che c'è anche i capelli al cardinal risciolì così e quindi ci conosciamo ora quando eravamo piccoli siamo rimasti piccoli che ne pensi dei capelli di Lorenzo? che ne pensi? ora li voglio fare anch'io così che cosa pensate? che è? dei capelli suoi oggi abbiamo due ospiti a pranzo la mia fotografa ufficiale e Lorenzo che è? mio fotografo ufficiale pensate mio stylist pensate che io e Lorenzo ci conosciamo da quando eravamo piccoli e siamo rimasti questa città a lui piace e non lo portano a lui ma a me non piacciono perché non ti piacciono? perché non ti piacciono? perché no? perché? e io le persone le voglio vedere ordinate e sanno male oh ma questi capelli non è normale? per lui va bene per te? mi piacciono da lui ognuno le porta come mi piace ma per te? per me no non è normale? per me no qualcuno che mangia il polletto in bianco ai 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 come mai? come mai? che dieta è questa? quella di tontometto dai ai 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 mentre la nonna è ignotti al sugo d'oca com'è sto sughetto? è buono, è buono, è buono buonissimo eh? sughetto d'oca top eh? approvato anche da nonna Maria qualcuno che... ti piacerebbe mangiare le tagliatelle eh? una persona affranta eccolo guarda io... si credo guardate il sugo d'oca com'è guardate che trovate dentro il sugo d'oca ragazzi c'è proprio in oca vera che spettacolo i pezzettoni sugo top no no coccodrini mi sono riposato un pochino perché ero stanchissimo dalle 6 che ero in piedi quello fa mille cose praticamente ho fatto zero quindi ora vediamo di fare qualcosa dobbiamo ringraziare Wender che ha mandato queste magnifiche felpe ma soprattutto questa maia nonno Faustino ringrazia ringrazia un'altra volta ma va con tu no come fa la tigre come fa ma che cazzo ne do come fa provateci come fa ma va l'altra via no come fa la tigre come fa ma che cazzo ne do come fa provateci come fa ma va l'altra via no no allora andiamo a fangiro carpe con la macchina no no perché perché no andiamo là si dimmi c'è ti prendo così dai fermate Dio sciatte di coglioni ma andiamo a fangire no perché perché non ci vengo dai oh ci andiamo no non ci vuole venire dopo venite ma e come non sogni non ferma niente dai 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 dimo la dai che si fa che hai fatto e hanno levato la chiave la serratura anche arriva e tu che hai fatto una sega e dopo no fedeli lasciami via che io sono marchese eh ebbè eh è o no voi sapete che questa scrofa che è salita che mi ha tutta la spalliera dietro ma perché ma come perché far distante la sraia invece distante la macchina aveva stasera come i cristiani fermate che posso fare fiamme per il buco del culo ma fermate mi voglio scelta mette anche anche quell'altra si e dopo ci metto questo dove mette per bene sta mascherina no sugli occhi sotto sotto oh vai basta che la smette ti rompi il cazzo ma se hai da guardare io non ce vedo che ti ho capito che ho il voltaggio alto e queste in questo in questo fermate di scelta o no vai per il presefino vai con l'impanatura grande guarda quel presefino non è gel santa no l'ha detta tutto va bene come? ci ripigli a queste scematte levate vedere i porca mi fanno bene semia ma te stavo a mettere la ghirlanda vicino a me in gesata stai a guardare ma che sorca come ci lavrava il pelo nero nero lungo ma come? riccio ma che gli facevi tu una sorca ma levati di fuori che gli facevi? guarda guarda come va non si non ci ripeto andiamo al mcdonald a cena si che ci vuoi al mcdonald dai dai a mangiare la bagnottina con l'insalata andiamo al mcdonald ci mettono un tanto di carne macinata l'insalata macadoni coccodrilli guardate che spettacolo san francesco come ti sembra? nonno bello 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 un capolavoro un capolavoro ti piace o no? bravo fermati ti piace o no? non sto fermo che le mani ti piace? che ti piace? a me piace la figa maaa che ti è? è vero? ma bello è tutta gelata o no? ma è certo che è vero ma è niente maaa il cazzo è tanto passare vedi la sera? si 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 guarda c'è anche la figa di lì nonna maria ma quella c'è dappertutto c'è la figa nonna maria la figa del grano ti piace o no? guarda gli uccellini ma che cazzo buon natale no c'è scritto il demonio va via ti metto le pazzolano ti metto le pazzolano mi fa tanta paura va via va via qui è cambiato oh oh vuoi vedi? ora si vede una bella sorca maaa senti giovane giovane maaa guarda questa c'è di lì o no? quando hanno fatto lavoro dovrei essere di un piccolo agente nooo ma nooo non è il patipolo la gru i lavori che hanno guarda guarda si apre o no? guarda che c'è sta dentro o no? nonno ma la sorca maaa nonno ma lì è qualcosa è sempre quello vedi tutta la chiesa dentro o no? nonno tutta la chiesa dentro o no? e vabbè vabbè che è successo? sono due giorni che? o tre la tua mamma ha preso la macchina ha lasciato il quadro acceso e vabbè che gli fa? è in mannato no? e vabbè tu dici te no giù non mi salta sono un po' da lassù che c'è? giù qui è lì che ha fatto tanto che tu dici te no che non è vero mettilo ma io sai che farei se posso in te? me la lascerei fai vedere ma quei fai vedere o no? ma scusa fai vedere fai vedere oh mi salta il colpo perchè ti ho fatto un cagione di coglione no quello no quello no oh ma leva le mani oh di qualcosa eh di qualcosa di ho 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 di ho 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 di ho ho come è il cane? come è il cane? mi dà una mignola perché? oh perché? 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 ecco qua il nostro alberello sembra un cipressino ma è tanto carino palletta carletto life guardate che bella e poi ho scelto anche una palla dove sta? eccola con i popoli ecco qua il nostro alberello Grazie.